Siamo pronti a contrastare il livello di inflazione che avremo ormai quasi certamente nei prossimi mesi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Questa mattina nella mia solita carrellata sulle news, quelle che mi interessano di più ragazzi, come sapete io non guardo tante news ma sono quelle che mi interessano, preferisco focalizzarmi, Elon Musk butta fuori uno dei messaggi che un po' frulla in testa a tutti quelli che capiscono un po' di macroeconomia, che hanno veramente un pochettino l'occhio clinico su cosa è importante per i mercati, cioè la questione inflazione con l'aumento delle materie prime schizzate alle selle, la questione bellica che praticamente non sembra assolutamente finire in tempi brevi e tutto quello che già ci portavamo dietro, la questione della pandemia, tasso di inflazione schizzato alle stelle. Ne abbiamo parlato più volte nelle scorse settimane anche per via di quello che vi avevo spiegato sulla questione macro, cioè da una parte la guerriglia bellica dall'altra invece quella legata alla questione inflattiva e la morsa in cui le banche centrali, Federal Reserve primis, in primis, sono strette perché non riusciranno a controllare questo tasso di inflazione in quanto l'alzata dei tassi porterebbe poi a una catastrofe recessiva importante, quindi da un lato recessione, dall'altro lato tasso di inflazione schizzato alle stelle, le banche centrali e cosa farà Bitcoin, cosa possono fare le criptovalute in un ambiente del genere abbiamo visto, come si sono mossi in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, Bitcoin è riuscito a contrastare il tasso di inflazione, punto interrogativo, funziona questa cosa, al momento nel mondo le criptovalute sono viste più come asset anti-inflazione o più come asset speculativi, ne parliamo in questo video. Va bene ragazzi, no, ci siamo prima di andare avanti e spostarci sui grafici, dove vedremo come sempre tutto quello che ci sta dicendo il mercato. Sulla questione attuale dell'analisi tecnica, dell'analisi ciclica e dell'analisi macroeconomica, vi faccio vedere Elon Musk questa mattina che sputa fuori, diciamo, le sue classiche, i suoi classici tweet, ma non è solo, non è l'unico, anche Saylor ha detto la stessa identica cosa, contrastare l'inflazione, bisogna investire in asset scarsi ragazzi. Allora, la questione della scarsità. La questione della scarsità è assolutamente l'arma più importante che ha Bitcoin dalla sua parte, molto di più delle cripto, perché le criptovalute intese come derivanti da smart contract, eccetera, è vero che possono essere scarse o meno ragazzi, però non hanno proprio la funzione di store of value, come quella che teoricamente dovrebbe avere Bitcoin, almeno in questa fase. Perciò, in teoria, gli istituzionali in questo momento, quando parlano di queste cose, quindi a ricercare asset scarsi per contrastare il tasso di inflazione, quello che fanno è, nell'ambito cripto, parlare di Bitcoin più che delle altre criptovalute che invece sono più legate ad attività di altro genere come quelle che derivano, diciamo, dalla questione Ethereum, quindi sugli smart contract. Per quanto riguarda Elon Musk, tira fuori questa cosa, ragazzi, ma noi in realtà ne abbiamo già parlato più e più volte, quindi cosa stai pensando di fare rispetto, diciamo, al tasso di inflazione nei prossimi anni? Questa è la domanda clou, in sostanza, che butta fuori con un tweet il grande Elon, è un po' la domanda che riguarda un po' tutta l'attuale situazione, ragazzi. Allora, intanto andiamo a vedere tutto quello che è la situazione sulle analisi dei grafici delle cripto per capire un po' anche una risposta a un'altra piccola domanda che durerà soltanto poche ore, ragazzi. La questione sulla proof of work che l'Europa vorrebbe eliminare, sì o meno, cosa cambia? Assolutamente poco, ragazzi, perché intanto quasi sicuramente non faranno nulla, perché in sostanza i mercati non ci sono mossi tantissimo. Poi il proof of work, ragazzi, sostanzialmente in questo momento si sviluppa anche molto negli Stati Uniti, quindi il fatto che l'Europa voglia dire, voglia bannarlo o meno, bisogna capire poi dove, come, quando verrà eventualmente fatta una cosa del genere, è più una fake news, cioè è più una news che, diciamo, tirata fuori tanto per parlare di qualcosa, ma poi in sostanza nella materialità dei fatti non cambia niente, ragazzi, quindi probabilmente non faranno nulla di tutto ciò e a prescindere, anche se fosse, non cambierebbe granché per il mercato cripto, perché in ogni caso non è un luogo centrale per il mining di Bitcoin, insomma, ragazzi, ok? Quindi nei grafici in ogni caso si vede una sorta di stabilità da questo punto di vista, quindi non c'è certamente la paura legata a questa regolamentazione, più che altro siamo comunque vicini, stiamo andando sempre più vicino alla scadenza ciclica della chiusura del mensile, vi faccio vedere come stiamo procedendo e poi ragazzi andiamo ad affrontare, diciamo, quella che è la questione centrale in questo video, cioè Bitcoin in questi ultimi mesi si è comportato da asset anti-inflazione, sì o no, e veramente coprendo i nostri portafogli, la nostra situazione patrimoniale utilizzando Bitcoin possiamo dire di essere coperti veramente oppure il mercato non considera ancora Bitcoin un asset come scarsità, quindi anti-inflattivo come l'oro, il petrolio, il grano, per esempio? Allora, questo poi ne rispondiamo dopo ragazzi, intanto andiamo a vedere quello che è la questione legata invece all'analisi ciclica dei mercati. Allora, Bitcoin, questa è la situazione ciclica come sempre avviene in una barra di congestione, man mano che passa il tempo la volatilità dell'asset in questione si sta riducendo, la volatilità ridotta porta maggiori pericoli nel corso delle prossime settimane, perché man mano che questa volatilità si comprime con la logica, cosiddetta logica, della molla ragazzi, quando comprimete una molla poi la forza, pum, di esplosione è maggiore. Questa è una logica che è sempre presente all'interno dei mercati, le compressioni di volatilità come quello che trovate in questa zona è molto pericolosa perché poi la fuoriuscita da questi margini di cui vi ho parlato per esempio nel mio ultimo video dove vi parlavo dell'accumulation range su Bitcoin il video sul corso di analisi tecnica ragazzi che stiamo facendo, allora facciamo così vi lascio il link in descrizione così vi andate a dare un'occhiata alla seconda lezione proprio di questo accumulation range abbiamo parlato che si sta andando a creare quindi poi una fuoriuscita sopra o sotto sarebbe insomma abbastanza esplosiva. La questione però sul conteggio temporale è un po' non ci porta a buone notizie ragazzi perché in realtà siamo vicini alla zona centrale di questo ciclo quindi ci avviciniamo alla sua fase naturale di chiusura che dovrebbe avvenire dal 25 di marzo in poi quindi mancano 11 giorni ancora e presto quindi il mercato può tranquillamente fare cose del genere perché Bitcoin ci ha abituato a candeloni giganteschi anche nell'arco di un solo giorno figuriamoci 11-12 giorni quindi ancora le carte sono nel banco e stanno per essere distribuite quindi c'è spazio però ragazzi in sostanza sembrerebbe proprio che questo ciclo mensile che si struttura in teoria così molto simile probabilmente al precedente abbia già realizzato il suo massimo è un massimo fatto nella prima parte del ciclo in teoria potrebbe innescare questo tipo di conclusione per questo tipo di fase mensile. Ci può stare anche un minimo al di sotto dei 36-35 proprio in conclusione del mese di marzo solo in conclusione dopo il 22-23 in poi un minimo sotto i 36-35 lo possiamo accettare. Se avvenisse prima di queste date molto prima no perché diventa estremamente pericoloso per il proseguo probabilmente poi il trend si andrebbe a rovinare in maniera radicale e questo non lo vogliamo ragazzi anche perché c'è un discorso molto importante che di cui parleremo se dovesse verificarsi nelle prossime settimane ai prossimi video perché a livello di analisi tecnica c'è un costrutto unico che Bitcoin non ha mai realizzato una sola volta in tutta la sua esistenza e se siamo vicini dal verificarsi di questo eccesso diciamo chiamiamolo così statistico. Se dovesse avvenire poi vi dico cosa e come e quando vediamo chi di voi invece magari lo indovina scrivendomelo nei commenti c'è una questione statistica che non è mai avvenuta e se dovesse avvenire e potrebbe avvenire nelle prossime settimane perché siamo vicini se dovesse avvenire sempre la prima volta nella storia e non depone bene quindi se qualcuno di voi indovina cosa è questa cosa ma noi la sveleremo ragazzi nei prossimi nei prossimi video poi speriamo insomma che non dovesse mai verificarsi se non si verifica non ve la dico fino alla fine dell'anno se si verifica poi sono obbligato a dirlo quindi in sostanza allora 1 e 2 la struttura di questo ciclo mensile ancora siamo sopra questa fase bisogna vedere nei prossimi giorni allora mi sta bene il trading range mi sta bene una cosa del genere poi la chiusura perché qui il punto che io voglio vedere poi la reazione di bitcoin e la reazione delle cripto se da qui in poi dopo febbraio e abbiamo atteso e poi dopo marzo ragazzi quindi dopo la chiusura di tutta questa fase non avviene un recupero dignitoso del trend dei mercati la questione si sposta ad un altro argomento centrale cioè la fase poi finale del ciclo annuale perciò ragazzi i tempi sono stretti possiamo stare ancora in barra di congestione ma dalla fine di marzo in poi il mercato dovrà reagire se non reagisce in maniera importante andando a fare un bel trend poi magari fare nuovi massimi non la vedo possibile quest'anno però magari ci prova ok tutto è possibile ovviamente sappiamo che bisogna seguire i trend ragazzi quindi quando poi avvengono però nel momento in cui non fa proprio la reazione diventa pericolosissimo lì faremo di nuovo il punto della situazione quindi in questo momento sono così idealmente posizionato attesa di una fase long che abbia un trend più importante rispetto a questi che sono barra di congestione dentro la fine del mese di marzo in partenza se questa cosa avviene ben venga ci sono poi tanti discorsi da andare a vedere se questa cosa non avviene bisognerà poi prenderne atto e allora agire in maniera differente nasdaq ragazzi è proprio in dirittura d'arrivo con la chiusura di questa fase di ciclo da 160 180 giorni ci siamo perché anche nasdaq ha indicato vedete un nuovo minimo intanto la pulizia purtroppo in questo caso è la pulizia di un trend al ribasso quando vi ho detto qui in questa zona che avevamo breccato questa media il trend è invertito l'annuale di nasdaq è ribassista si scende fino alla fine di questo ciclo fino alla fine del ciclo e poi si riparte non può investire il trend fino a quando il ciclo non è chiuso questo è molto negativo però è anche interessante perché è pulito quindi ci dà anche delle informazioni e ci dice che in questa fase nonostante una fase di declino abbastanza rilevante potremmo essere vicini a una nuova piccolina fase di rimbalzo che dovrebbe essere proprio l'inizio del nuovo semestrale di nasdaq che va a fare appunto il cosiddetto massimo quello fake no quindi la a la b e poi la c che c ragazzi potrebbe essere anche un doppio minimo nulla vieta che avvenga una cosa del genere o poi insomma staremmo a vedere se fa un'inversione a b insomma davvero difficile però se riesce a farlo ben venga poi ne prenderemo atto in questo momento ragazzi nasdaq è in fase di chiusura del ciclo semestrale mancano dieci giorni quindi abbiamo nasdaq vicino a questa minimo importante bitcoin a scadenza del ciclo mensile importante entro dieci giorni dopodiché deve 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 ripeto dare segnali di inversione fare almeno un trend che ci riporti intorno ai 52 54 se non lo fa poi dovremmo prenderne atto come vi dicevo prima questa è la situazione attuale per quanto riguarda i mercati poi abbiamo la questione legata invece al defy e poi rispondiamo alla domanda sull'inflazione bitcoin protegge che cosa succede e non sei loro hanno ragione e bla 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 hanno ragione sicuramente sulla parte inflattiva sul fatto che bitcoin possa essere già considerato tale mi astengo ancora al momento vi dico il mio pensiero tra poco allora per quanto riguarda questa fase defy cripto della defy ancora deboli si conferma ragazzi quello che ci siamo detti in pratica due tre mesi fa cioè si conferma il fatto ci sono ci sono due conferme da questo grafico qui ragazzi una è negativa ma è quella diciamo che mi importa di meno l'altra invece positiva e mi importa di più adesso vi dico anche perché su questo grafico è evidente in maniera molto chiara che la defy ha invertito il trend di medio breve periodo e qua non ci piove ragazzi ne abbiamo parlato a gennaio quindi tre mesetti fa circa quando vi ho detto questa candela inverte il trend quindi lower high precedente poi un un lower low da questo punto di vista quindi inversione di trend evidente però 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 non è cresciata questa è invece una notizia secondo me estremamente positiva come vedete queste medie mobili bloccano ogni tentativo di rialzo della defy nonostante luna stia facendo i numeri tra le altre cose ragazzi ho chiuso una parte di posizione di quel trading fatto famoso che durava pochissimo mesetto con un guadagno assurdo cioè secondo me perché non avevo neanche preventivato un guadagno del genere su un'operazione di trading che doveva durare pochi giorni quindi luna ancora fa i numeri l'eterio non è cresciato ragazzi anche se non va bene come bitcoin su questo c'è una chicca per voi che è spettacolare ne parleremo nei prossimi video ragazzi iscrivetevi che il video su ethereum contro bitcoin sarà una chicca per l'intero 2022 quindi mi raccomando e però ragazzi quindi abbiamo ethereum luna che ancora reggono solana che ha ripreso e nonostante diciamo questa fase la bellica la guerra e tutto il resto quello che c'è è vero che la defy non è fatta solo da queste cripto è vero che la defy diciamo di per sé deve consolidare parliamoci chiaro per le fesserie che sono uscite fuori negli ultimi periodi per insomma la quantità di hype che c'è su questo mercato che poi in sostanza però ha tanto da maturare ancora e questo è tutto vero però questo è un grafico che era esponenziale che aveva fatto numeri straordinari salendo in maniera verticale praticamente ragazzi guardate questo è un logaritmo sono delle percentuali di rialzo veramente eccezionali perciò in una fase del genere una fase di crash una mantenimento all'interno di questo range per me è accettabile è chiaro ragazzi poi io mi aspetto la chiusura di questo ciclo a livello annuale però una cosa è vedere un trend del genere una cosa è vedere un trend del genere perché le criptovalute soprattutto in ambito di del settore dei fai dove c'è pieno di progetti anche farlocchi che poi non staranno mai in piedi e tutto quanto il resto possono fare il famoso pump and dump lo possono fare con grande tranquillità quindi vedere una cosa del genere significa ebbe un fake market un po quello che è stato l'altcoin nel 2017 che poi sono state proprio sono crashate proprio in quel modo ragazzi ecco perché ve lo sto dicendo quindi questo grafico ci dice che probabilmente in questa fase ragazzi non è proprio una genialata esporsi sulle criptovalute e dell'intero settore della de fai magari dovete fare cripto picking andare a definire esclusivamente i progetti che hanno un trend migliore rispetto bitcoin o anche in stable coin quindi rispetto al dollaro in questo periodo perché sporbi su tutte secondo me è un errore in questo caso e soprattutto sarà un errore anche andare a ricercare progetti eventuali esplosivi a meno un punto dei pump and dump che vengono organizzati a tavolino perché perché se la situazione nei prossimi verso fine anno dovesse poi peggiorare le cripto in generale avranno difficoltà a muoversi con forza rispetto bitcoin quindi quando fate un portafoglio di lungo periodo otterrete conto di questi prossimi sei mesi va bene ragazzi questo vi sto dicendo però io la vedo positiva questo grafico anche se è ribassista e mi aspetto comunque che continui questa fase di ribasso perché regge da un trend gigantesco quindi invece di farmi il famoso tampone è riuscita comunque a reggere accettabilmente poi mi aspetto che comunque scenda un pochettino però insomma si sta comportando bene vabbè detto questo andiamo alla questione nocciolo poi dell'argomento cioè la questione inflazione Elon Musk dice chi sta pensando di voi a proteggersi sull'inflazione la mia risposta potrebbe essere che ci aveva già pensato il caro Bill Gates perché un annetto fa comprava terreni ragazzi lo so come fa ma Bill è veramente uno dei più grandi geni da questo punto di vista perché è incredibile ragazzi fanno delle cose ma sicuramente hanno le informazioni molto più avanti rispetto a noi quindi il problema asimmetrico delle informazioni quindi loro sanno le cose molto prima di noi quindi è molto più facile a gestire però è incredibile ma è così allora Bitcoin può proteggerci dall'inflazione degli asset nei prossimi mesi dal mio punto di vista è no perché non parliamo di un'inflazione da qui ai prossimi sei anni allora il mio punto di vista sarebbe sì ma se parliamo da un'inflazione da qui alla fine dell'anno per me è no perché le criptovalute in questo momento Bitcoin in questo momento non sono in grado di fare questo poi nel momento in cui la tecnologia noi l'abbiamo ragazzi la tecnologia è giusta quindi a livello informatico e tecnologico e di ecosistema sarebbe possibile questa cosa il problema è che se io vi do una bicicletta non vuol dire che voi la usate per pedalare questo è il discorso cioè noi abbiamo la bici abbiamo la bici ma chi la sta usando è questo il problema cioè il mercato non sta ancora utilizzando questo asset come asset di protezione contro l'inflazione ci sta pensando allora sicuramente sailor sicuramente sailor non fa testo perché lui è proprio pro 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 cripto ragazzi quindi è ovvio che gli dice quello che pensiamo noi quello che fa testo sono quelli che sono contro cioè bisogno che siano loro che cambino idea allora anche un iron che è pro cripto in generale fa poco testo da questo punto di vista se il mercato utilizzerà Bitcoin anti inflazione e allora preparatevi alle botte proprio perché facciamo i botti perché le criptovalute sono troppo piccole in questo momento per gestire una mole di investimenti dal mercato old classico va bene e perciò dovessero semplicemente qualche miliardario qualche super balena dire va bene ho paura di inflazione vado sull'equilibrio e non c'ero mai in andato succede che esplode Bitcoin ragazzi ve lo dico proprio chiaro in maniera proprio chiara non c'è analisi che regge se avviene una cosa del genere Bitcoin esplode se ancora non è avvenuta una cosa del genere è proprio perché non funge da asset contro l'inflazione non che non possa farlo capitemi quando vi sto parlando ma il mercato ancora non lo considera tale molti miliardari nel mondo non lo usano per questo quello è il discorso non lo usano per tanti motivi è complesso hanno paura non sanno mettere le chiavi c'è una questione privata poi ricordatevi che ai super miliardari quello che interessa è mantenere il suo potere d'acquisto ragazzi non è che gli interessa il pump eccetera quelli non sanno neanche come spendere i soldi spenderanno mai per tutta la loro esistenza quindi è una questione legata anche alla semplicità di uso della tecnologia quindi Bitcoin è un dono per tutto quello che il genere umano si può utilizzare in quel modo ma in questo momento non c'è un afflusso di balene che non erano già presenti le balene ci sono sono già quelle cripto sono già dentro il mercato i prezzi hanno già fatto quelle cripto infatti siamo a 40 mila dollari ragazzi ma se dovessimo avere un Bitcoin anti inflazione per l'inflazione che sta avvenendo perché l'inflazione che sta avvenendo ragazzi i prezzi l'hanno già scontata quella del Covid è già scontata quella della pandemia quella della guerra non è scontata ragazzi ma quella bisogna vedere se dura perché è durata cioè è ancora pochi giorni quindi se l'inflazione della guerra durerà probabilmente Bitcoin sarà in grado di reggere un po' di più gli attuali prezzi però poi c'è il discorso che purtroppo la questione bellica penalizza la crescita e siccome Bitcoin è molto più legato in questo momento al settore growth piuttosto che value ragazzi è più che uno store of value Bitcoin in questo momento è un praticamente è un asset iper tecnologico visto in maniera iper speculativa perciò quegli asset lì durante un compito bellico scendono di prezzo l'abbiamo visto con Nasdaq e quindi da una parte Bitcoin è indeciso vedete la la doppia faccia di questo asset è anche il capolavoro di questo asset incredibile perché da un lato viene lo vendiamo perché è speculativo c'è la guerra dall'altro è però uno store of value e quindi l'inflazione si protegge che faccio equilibrio ragazzi vedete il capolavoro di questo asset finanziario questo è la verità ora quale delle due prevarrà se prevale lo store of value vediamo boom e sale in su se prevale la tecnologia allora probabilmente scende però c'è anche l'altra faccia di questa medaglia ragazzi se Bitcoin lo store of value e basta non crescerà più ai ritmi di prima perché non ha la crescita esplosiva fra dieci anni come di un strumento tecnologico quindi vedete come tutte le questioni si bilanciano e tornano sempre al nocciolo principale è il mercato che decide la strada di questo asset la tecnologia c'è la base c'è le fondamenta ci sono ma poi qualcuno deve dire ok usiamolo per quello se sarà così allora ci prepariamo al botto ma al momento non lo stanno usando per quello tutte le volte che Bitcoin ha agito in una fase di difficoltà del mercato è stato molto più vicino a un'azienda un asset tecnologico growth quindi molto esplosivo molto rischioso molto speculativo perciò al momento i dati di mercato dicono store value si si può fare ma in questo momento io il 60 70 per cento lo considera un asset speculativo in questo caso quindi protezione della inflazione non avviene ragazzi però è una bilancina voi cosa ne pensate quale delle due prevarrà buono Elon che mette la sua parola e se loro ovviamente lo fa da una vita e quindi buono che grandi e giganti dicano queste cose perché sono loro che avranno impatto sui miglioritari non noi certamente loro avranno impatto sulle grandi balene e potrebbero spingere grandi balene all'interno di questo mercato per dirgli guarda che il mercato funziona funziona provalo provalo funziona store value magari sarà così va bene fatemi sapere cosa ne pensate voi noi ci vediamo nel prossimo video ciao